Salve a tutti amici, Marco Sbox e benvenuti in questa nuova puntata di 4 chiacchiere all'interno del mondo open source. La puntata di oggi la voglio dedicare al commento, una notizia che ho letto questa mattina sul punto informatico. A quanto pare, leggo perché non ricorderò mai il nome, la cittadina di Facebook, l'ho detto bene? Manca qualche R, di sicuro manca qualche R, lo sapete. Ha deciso di abbandonare la suite di produttività Open Office e di ritornare a Microsoft Office. La decisione è stata motivata principalmente per problemi di compatibilità con i documenti creati con Office. Sapete bene che LibreOffice, OpenOffice e qualsiasi altra suite di produttività gratuita, forse è eccezione fatta per Cagrigra, perché Cagrigra riesce a importare i documenti doc in maniera impeccabile. Il problema è che quando si lavora con suite di produttività gratuite, libere, si hanno problemi nell'importazione dei documenti. Spesso anche con vecchie versioni, alcuni miei amici sanno dei problemi che ci sono nell'importare, nell'aprire file anche in formato aperto, realizzati con vecchie versioni di LibreOffice. Questo è un grosso problema, perché se noi vogliamo far diffondere la cultura del software libero, far diffondere gli standard aperti, dobbiamo anche avere un occhio di riguardo nei confronti di chi non utilizza standard aperti. Perché? Perché se sei costretto a lavorare in un ufficio con una persona che ti fornisce un documento salvato in formato doc, anziché in ODT, la pubblica amministrazione o anche l'utente che lavora, ha bisogno comunque di una suite di produttività che li gestisca correttamente questi file proprietari. Perché altrimenti, che faccio? Dico, impongo al cliente, salviamo in un altro formato? La maggior parte delle volte se uno gli dice così, gli dice che cosa vuoi? Perché non è che uno può andare incontro alla, diciamo così, l'ignoranza informatica delle altre persone, non è che può premonirsi. Quindi il discorso è, secondo me, a mio avviso, le suite di produttività dovrebbero lavorare maggiormente su questo problema, sull'importazione dei formati proprietari. Perché? Perché appunto, se uno deve lavorare, deve essere capace anche di importare file provenienti dal mondo Microsoft, che è purtroppo di fatto lo standard più diffuso, uno standard di di fatto, e deve poter lavorarci su. L'altra questione è che comunque le pubbliche amministrazioni di tutto il mondo dovrebbero utilizzare maggiormente i formati aperti, o meglio, dovrebbero utilizzare esclusivamente i formati aperti. Perché se si inizia a diffondere già a partire dalla pubblica amministrazione, già a partire da chi ci fornisce i servizi, la cultura del formato, del formato libero è meglio. Voi che cosa ne pensate? Alla prossima, ciao ciao!